Matteo Para è CEO di 4D Sistemi Informatici, insieme a Fortunati ha avviato 4D Informatici nel 99 e insomma dal 2016 è nata anche la compagnia Cielo che tanti conosciamo per la connessione via internet e nel 2019 ha generato Format, un'azienda specializzata sull'automazione del commercio al dettaglio e nella rivendita dei servizi digitali. Matteo ci racconti la tua esperienza. Bene, allora intanto grazie per questo invito, grazie per l'organizzazione e per questo sforzo che hai prodotto tu in primis Gloria, che non è per niente facile mettere insieme tante realtà, tante persone che si mettano al tavolo a discutere di tecnologia. Saluto Gian Piero che conosco personalmente, col quale abbiamo già avuto un scambio di vedute in merito alla digitalizzazione del territorio. Noi come 4D Sistemi Informatici ci occupiamo prevalentemente di, siamo un system integrator che nel lessico normale vuol dire una società, un soggetto che prende la tecnologia e la implementa, la installa, la rende fruibile e produce così la funzione che serve alle altre aziende, dei nostre clienti che si avvalgono dei nostri servizi. Siamo degli innovatori nel senso che ci piace comunque imparare sempre delle cose nuove perché il nostro settore è fatto così, dove le conoscenze si consumano brevemente nel tempo. Per andare dritti al punto abbiamo anche creato questo soggetto, si chiama Format, che ha dato vita a un substrato tecnologico che permette di digitalizzare i punti vendita. Però più che parlare della nostra soluzione vorrei approfittare di questo spazio appunto per capire innanzitutto perché adesso è il momento per poter procedere a fare questa digitalizzazione. Se posso Gloria vorrei fare lo sharing della presentazione. Ok, si vede? Sì. Ok, allora la sfida è adesso. Prima di tutto è adesso perché in questo momento il costo per portare tecnologie sul punto vendita è veramente basso, mentre prima, sentivo nella conferenza prima, chiaramente i costi erano molto più elevati. Quindi in questo momento è accessibile. Quindi adesso perché è accessibile? Non è necessario avere, fare grossi investimenti, avere persone dedicate, è sufficiente un piccolo investimento per poter accedere. Questo è adesso anche perché più passa il tempo, più l'e-commerce sta mangiando terreno al negozio di prossimità. Quello che noi chiamiamo questo processo digitalizzazione del marciapiede parte proprio dall'esigenza del punto vendita di prossimità di recuperare lo spazio perduto. Spazio perduto a favore di chi? A favore dei marketplace, delle piattaforme che citava anche Gian Piero prima, che sono organizzate, hanno infrastrutture, hanno persone capaci che sono capaci di soprattutto organizzare l'acquisto. Però hanno dei grossi limiti, perché chiaramente sono centralizzate e non decentralizzate. Quindi hanno i magazzini centralizzati, quindi non hanno a disponibilità di beni che siano in prossimità delle persone interessate all'acquisto. Quindi il primo punto per vincere questa sfida è semplicemente informare i potenziali clienti della disponibilità di un bene in un posto vicino a casa loro. E poi l'utente può scegliere se andare direttamente presso il punto vendita una volta che ha individuato il prodotto, può scegliere comunque di farselo spedire a casa, può scegliere di riservarlo, di prenotarlo. Ma in ogni caso può comunque vivere l'esperienza dello shopping, quindi la socializzazione legata allo shopping, senza dover girare per negozi per cercare l'articolo, quindi senza perdita di tempo. Per cui ci prendiamo in questo modo tutto il buono che arriva dal negozio di prossimità. Quindi la velocità perché posso andare subito a ritirare il prodotto e la socializzazione. Oltre poi al rapporto e quindi la facilità di gestire un acquisto magari che è sbagliato, quindi ci sono tutti questi aspetti. Ma per arrivare, perché il negozio possa entrare online, deve dotarsi di sistemi automatici. Sistemi automatici zero click. Perché zero click? Zero click perché devono essere sistemi automatici che non vanno a interferire con l'attività ordinaria. Cioè la tecnologia deve esserci, è fondamentale, senza di quella non si potrebbe realizzare, ma non deve essere percepita più di tanto. E non deve portare l'esercente a fare più operazioni di quelle che fa adesso. Cioè grazie a questi sistemi zero click, che è un concetto, non è il nome di un prodotto, l'esercente deve poter fare le stesse cose che fa oggi, semplicemente in un tempo minore. Quindi i tasti della cassa diventano un display, per cui la cassa diventa digitale, diventa un pc, diventa il luogo dove si diventa in verità il server di questo piccolo sistema automatico che sta presso il negozio, dove l'automazione diventa trasparente. Quindi permette di ottenere la velocità al banco e oltre al discorso della velocità, si digitalizzano in questo modo tutti i dati. Quindi si ottiene più controllo, perché si può con questo sistema, con questi sistemi, sono diversi ormai sul mercato, capire che cosa sta succedendo all'interno del punto vendita, che cosa è successo, quindi aumento il controllo, posso fare più strategia, perché posso fare più previsioni, ho più dati o più informazioni in mano. Quindi l'esercente oggi tipicamente quando sa come è andata la sua attività? Lo sa al marzo, aprile dell'anno dopo, quando va dal commercialista, che più o meno gli fa un bilancino e gli dice se l'utile è maggiore o minore, oppure lo sa istinto. Però l'istinto spesso ci inganna, l'istinto e la consuetudine sono cose che vanno sempre confrontate poi con i dati reali. Matteo, perdona, mi inserisco a dire una cosa, perché noi stiamo dando un pochettino dall'inizio per scontato magari il discorso dell'e-commerce, e quindi per rendere comprensibile un pochettino questo ragionamento che stai facendo, che è molto molto preciso e secondo me è utilissimo, volevo solo fare un passaggio sul fatto che l'e-commerce è di fatto la vendita online, perché così, per allineare un pochettino tutti. E tutto quello che tu stai dicendo è molto importante, perché tante aziende sono diffidenti dal passaggio alla vendita online, perché trovano difficoltoso il fatto di dover caricare tutti i prodotti, aggiornare quanti ne sono rimasti a magazzino, se qualcosa è andato venduto mettere la differenza, se un prodotto non è più disponibile toglierlo dalla vetrina virtuale, diventa di fatto un lavoro parallelo a quello che è poi l'attività di vendita in negozio. Quindi il fatto di riuscire in qualche modo ad automatizzare attraverso il servizio della cassa, che è già uno strumento che il commerciante per esempio utilizza, potrebbe sicuramente agevolare e togliere magari quella distanza tra la vendita fisica e la vendita online. Ecco, più che agevolare, abilita. Quindi questi sistemi abilitano il negozio ad entrare online quando prima non ci poteva entrare in un e-commerce, comunque in una piattaforma, perché l'esigente non deve preoccuparsi della piattaforma. Come diceva prima Giampiero, non dobbiamo creare piattaforme, non serve una nuova piattaforma. Le piattaforme ci sono già, in gergo si chiamano marketplace, sicuramente Amazon è il marketplace più famoso, non è l'unico, e anche Facility Live sta costruendo il suo marketplace. Quindi l'importante è che il negozio di prossimità abbia la sua proiezione all'interno di una o più piattaforme, perché qua la proiezione non è limitata ad una sola piattaforma. Una volta che il dato prodotto digitale è aggiornato in tempo reale, grazie alla raccolta, alla proiezione delle operazioni che vengono fatte al banco, quindi nel momento in cui io vendo un litro di latte e avevo disponibili dieci bottiglie da un litro di latte, in questo momento ne ho esattamente nove. Ma non importa se l'ho venduta online perché mi hanno fatto l'ordine che ho accettato o perché è arrivato il cliente davanti a me al banco. Io l'ho venduto, quindi non ce l'ho più disponibile. Per cui chi si connette vede che prima erano dieci e adesso sono nove. E avviene in tempo reale, al momento della fiscalizzazione o comunque della vendita del bene. Quindi per poter fare questo, e che è la prima cosa, la cosa fondamentale, non per tutti i prodotti, ma per la maggior parte dei prodotti, la disponibilità in tempo reale, soprattutto per esempio in abbigliamento, dove tagli e colori danno una limitazione di immagazzinamento al commerciante, perché uno non può avere tutti i modelli di scarpe, tutti i numeri di scarpe, tutti i colori dello stesso modello, insomma, chiaramente deve fare il commerciante una scelta strategica sulle cose disponibili, ma sulle cose che decide di vendere. Ma il punto è che assolutamente non deve succedere che io vedo online la disponibilità di un paio di scarpe blu taglia 42 e poi mi recco al negozio e quel modello non c'è più. Perché questo va a invalidare il rapporto fiduciario che si crea tra cliente e negoziante. Con questi sistemi zero click, quindi l'aggiornamento è in temporale, quindi zero time, e gli ordini online arrivano diretti al banco, quindi quella cassa che diventa un display raccoglie gli ordini che arrivano dalle piattaforme. Quindi non devo andare a guardare un computer, se è arrivata la mail, ce l'ho lì, alla cassa, è come se mi si fosse presentato il cliente di fronte al negozio. E quindi anche qua zero space, perché io non devo aggiungere altre strumentazioni, aggiungere altre tecnologie sul banco, basta la cassa che ho soltanto trasformata. Ci stanno dicendo, perdonami, l'e-commerce è una grande risorsa anche per il negozio di vicinato, non pensate, nel senso che anche superato questo brutto periodo di pandemia, può essere un modo per raggiungere più clienti, anche quelli con orari di lavoro, luoghi di lavoro, che non potrebbero frequentare il negozio fisico. Assolutamente, ma questi sistemi sono fatti proprio per questo, per digitalizzare il rapporto con il negozio di vicinato, che poi può sussistere al di fuori della piattaforma, deve continuare a esistere, perché è quello il negozio di vicinato, è una persona o più persone dietro a un banco che vendono un prodotto. Questo è. E però va, diciamo così, aggiornato. Ecco, bisogna fare un upgrade del negozio di vicinato, dotandolo di questi sistemi. Ed è assolutamente l'obiettivo di queste tecnologie, che oggi è possibile perché costa poco. Prima non era possibile. Questo è importante. E così anche la vendita non viene più realizzata semplicemente recandosi al negozio, ma attraverso la piattaforma di e-commerce che prevede quindi l'invio dell'ordine al negozio che senza dove scrivere nulla gestisce semplicemente questo ordine online. Quindi zero type, non deve scrivere, zero call perché non deve parlare col sistema di delivery per dirgli guarda che la roba è pronta. Cioè una volta che il commerciante ha messo da parte quell'ordine, che oggi è un'operazione già fatta, perché se voi andate da un panettiere, magari il sabato mattina, agli ordini del pane divisi per borse da una parte, quindi questo è il pane di Gloria, questo è il pane di Giampiero, eccetera, ci mette il suo bigliettino, poi quando arriva in Gloria, arriva Giampiero, diciamo il new pane, e allora fa questo e con l'ordine, con i sistemi zero click è la stessa cosa, non cambia nulla. Semplicemente io clicco un tasto che mi dice ok, è pronto per il delivery e quindi la piattaforma di delivery riceve questa informazione e passerà una persona a consegnare, a prendere quell'ordine e a consegnarlo per poi consegnarlo direttamente al cliente. Quindi abbiamo meno avanzi perché possiamo fare strategia, pianificazione, abbiamo meno magazzino perché con la strategia decidiamo di prendere meno cose e soprattutto la velocità e il maggior numero di vendite aumenta la rotazione. Quindi questo è secondo noi il paradigma con cui il negozio può finalmente aggredire il mondo dell'e-commerce per diventare lui il protagonista. Grazie Matteo, sei stato veramente prezioso in questo intervento. Grazie. Grazie.